Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il pulsante di iscrizione e di lasciare un mi piace. Grazie! Lido di Camaiore, una delle migliori destinazioni estive in Toscana. Una lunga lingua di sabbia dorata e un mare limpido, Lido di Camaiore è una località balneare molto amata dai turisti, l'ideale per una vacanza glamour. Il litorale toscano è un vero tripudio di spiagge bellissime, mare limpido e località vivaci dove trascorrere le vacanze estive. Una delle mete più amate dai turisti è Lido di Camaiore, incastonato tra spiagge forse più rinomate e glamour, con le quali tuttavia condivide un fascino unico al mondo. Si trova a pochi chilometri di distanza dal paese, ed è la destinazione perfetta per chi cerca relax e divertimento. Andiamo alla sua scoperta. Lido di Camaiore, una spiaggia meravigliosa. Nessun centro storico, solo qualche casa e dei negozietti per supplire alle esigenze dei turisti, Lido di Camaiore, pur essendo frazione di un paese che conta oltre 30.000 abitanti, non ha altro che la sua splendida spiaggia e un lungomare dove passeggiare, ammirando il sole che si riflette sull'acqua. Siamo nel cuore della Versilia, una delle località più chic dove recarsi in estate, molto apprezzata anche dai VIP. È letteralmente incastonata tra spiagge famosissime, come quella di Forte dei Marmi e quella di Viareggio, e si trova a due passi dalla Liguria. La lunga lingua di sabbia dorata che caratterizza la spiaggia di Lido di Camaiore, ancora una volta premiata con la bandiera blu, è interamente attrezzata, e ci sono tantissimi stabilimenti balneari tra cui scegliere. Di sicuro potrete trovare quello che più fa al caso vostro, visti i numerosi e variegati servizi offerti ai turisti. Si va dalla presenza di tende sulla sabbia, che sostituiscono i più classici ombrelloni, alle lezioni di Pilates o di Zumba da seguire in riva al mare, passando persino per alcune piscine d'acqua dolce e per chi non ama avere la pelle ricoperta di sale che si secca al sole. Se invece preferite risparmiare qualcosa, potreste provare ad aggiudicarvi uno spazietto presso le due sole spiagge libere dell'intero litorale, che sono tuttavia sempre molto affollate. Perché trascorrere le vacanze a Lido di Camaiore? Il mare è incantevole e ci sono tantissime occasioni per divertirsi, in famiglia o con gli amici. Senza parlare poi del clima, che è piacevolmente temperato anche in piena estate a meno che non rimaniate a rosolarvi tutto il giorno sotto il sole. E poi, nonostante questa località sia incentrata completamente sulla spiaggia, ci sono alcune piccole sorprese che vi conquisteranno. Cosa vedere e cosa fare a Lido di Camaiore Proprio a ridosso della spiaggia, c'è un lungomare davvero meraviglioso, si tratta di Viale Ermenegildo Pistelli, che offre una camminata di un paio di chilometri con vista sulle acque pulite, che rifulgono sotto i raggi del sole. Se da un lato c'è il mare ad incantare i turisti, dall'altro potrete ammirare hotel in stile Liberty, negozi ed eleganti ville del R-900. Se amate invece andare in bici, proprio accanto al Viale passa la ciclovia della Versilia, un itinerario che vi porterà alla scoperta di paesaggi magnifici con un po' di fortuna. Nelle giornate più terse lo sguardo si spinge sino alle Alpi Apuane. Per vivere un'esperienza adrenalinica, in estate potete provare la ruota panoramica, installata al termine del lungomare, nella zona più a nord di Lido di Camaiore, è il punto d'osservazione ideale per godere di una vista mozzafiato che arriva addirittura alla costa Ligure. Al tramonto, non c'è niente di più romantico che salire in cima alla ruota e veder scendere il sole. Infine, un'ultima tappa da non perdere è il famoso pontile, costruito solamente in anni recenti e divenuto il simbolo di Lido di Camaiore. Si spinge in mare per circa 200 metri a un bar-ristorante, oltre ad una terrazza panoramica. Spero che il video ti sia piaciuto, ti chiedo di iscriverti al canale e lasciarmi un like, ciao!